Il gennaio del grande esodo rosso-nero è appena iniziato e dalla prossima settimana, con l'apertura ufficiale del mercato, dalle parole si andrà ai fatti. Già detto di Antonio Piccolo, che dovrà decidere il suo destino avendo almeno tre squadre fortemente interessate al suo arrivo, in via di definizione la situazione di Raffaele Pucino. Il difensore lascerà Lanciano e tramite il Chievo Verona, società proprietaria del cartellino, sarà girato in presido a Lavellino, dove giocherà la seconda parte del campionato. Gli Irpini hanno vinto la concorrenza della Ternana. Su Guido Marilungo, attaccante in prestito dall'Atalanta, è intervenuto nei giorni scorsi il presidente del Perugia Santo Padre, che non si è sbilanciato. Non abbiamo ancora chiuso per Marilungo, non parlo finché non ci saranno le firme, ha detto il numero uno perugino, ma salvo clamorosi colpi di scena, l'affare andrà in porto. Potrebbe salutare dopo otto anni la Virtus Lanciano il capitano Mammarella, su cui c'è Lascoli, ma anche il Pescara sta facendo un pensierino per riportare a casa il difensore dal sinistro fatato, nonostante un'età calcisticamente avanzata. Un altro elemento della vecchia guardia, che potrebbe essere ai saluti, è Gaetano Vastola. Impiegato a corrente alternata nella prima parte della stagione, l'esperta Mezzala può rientrare nei piani dell'ambiziosa Robursiena, in Lega Pro, che dopo un girone d'andata non all'altezza sta ristrutturando l'organico e ha messo lo stesso Vastola nel mirino. Il centrocampista Luca Crecco, di proprietà della Lazio, ha trovato poco spazio e potrebbe andare via, anche se la sua posizione potrebbe essere rivalutata. Le tante partenze possono portare ad un ruolo di titolare più stabile nella seconda parte della stagione. Da capire però il contesto e la competitività di una squadra che uscirà molto cambiata, praticamente rivoluzionata dal mercato. Anche le posizioni dei vari Paghera, Bacinovic e Ferrari restano da valutare. Uno stravolgimento necessario per far quadrare i conti della società, così resteranno i giocatori con un contratto più economicamente sostenibile e gli arrivi saranno condizionati dalla volontà di alcuni club di pagare stipendi ai giocatori che gireranno in prestito in Frentania. L'operazione Salvezza, alla luce di questi fatti, sembra una mission impossible, a meno che non prenda quota, ma i tempi sono molto ristretti, l'ipotesi della cessione societaria. Con più liquidità da immettere sul mercato, in parte lo scenario cambierebbe.